Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuovissima serie in single player Bat Quit Arkham City Io ovviamente sono Quit108 e bando alle ciance, ciancio alle bande Diamo inizio alla nuova partita In difficoltà normale, ho già settato tutti i controlli e tutte le cose audio Quindi dovrei essere a posto Vi ricordo che sto giocando con un pad dell'Xbox 360 Vediamo sta Cinematics Guarda chi ho trovato Non toccarlo, ti ucciderà Quando diavolo arriva il cavo Tranquillo, arriva Riley dice che ha visto Batman C'è qui anche lui Ad Arkham City, perché mai verrebbe qui? Dovete dargli una calmata a tutti quanti È Batman! No, è Bat Quit Che diavolo No Spiace deludervi ragazzi Sono soltanto io Ah, devo combattere? Bene Contraattacco I comandi sono molto simili a A Batman Arkham Asylum Ciao Wow Che dolore Ora che li ho sistemati tutti Vado a prendermi quello che mi interessa nella cassaforte Va bene tesoro Andiamo a prenderti quello che ti interessa nella cassaforte Cerchi di imbrogliarmi Eh Harvey? Dubito ci riuscirai Ai 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 Leva le tue lurite zampe da lì Ora Che occhi verdi cagatuomo Non mi hai ricordato Sveglia Wayne Abbiamo parecchio A discutere Ma veramente Non la passerai liscia Oh ma l'ho già fatto Qui Dickie Vale Siamo in diretta da Arkham City Il discusso super carcere Realizzato proprio nel cuore di Gotham Tra poco Bruce Wayne Sarà su questo palco Per spiegare il suo improvviso interesse Nella politica di Gotham Il famoso playboy milionario Non è mai stato il tipo Il miliardario Vicky I milionari sono fuori È un genio Cosa sta succedendo? È un trip mentale sta cosa Immagino che ti considerassi intoccabile Ma come puoi vedere Nessuno è intoccabile Grazie Grazie Gotham Chi usi tra queste mura I Capibanda combattono Una guerra sanguinosa In quella che un tempo Era una grande città Tutti i detenuti Del manicomio di Arkham E del carcere di Blackgate Sono stati trasferiti In questa struttura Come può essere sicura Per la gente di Gotham? Ed Chiudi Arkham City Ora È fuori controllo Chiudere Arkham Mentre questa sera Io diventerò un eroe Proprio come te Batman Oggi Inizia la mia campagna Per chiudere Arkham City E rendere Gotham Di nuovo sicuro Ricordatevi che Nel bersaglio è nostro Ricordatelo Alinardo Wayne Abbiamo Wayne Nel bersaglio è nostro Ma Perché Forse dovrei ringraziarti Bruce Wayne è molto più facile Da catturare di Batman È ora che sei nostro Il protocollo 10 È pronto a partire Che diavolo è Sarà il mio lascito Ai posteri E il monumento Al tuo fallimento Se tenti di fermarmi Ti garantisco Che tutti quanti Sapranno il tuo segreto Ah si Che è ma sparaflesciato Sta cosa Siete miei Nuovi detenuti Lasciate che mi presenti Sono il professor Hugo Strange Responsabile Della struttura Di Arkham City Mi sono liberato Che diavolo stai facendo Credevi che non ti avremmo sentito Nice Bravo Wayne Così mi piaci Aiuto Non porti Tu sei un rincorso Ah 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 si C'è anche il pinguino qua Non posso allontanare la telecamera Ma è molto vicino Sei nella mia lista Smettetela Signorini Ah si Ah 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 Avanti detenuto Ahia Ciù le armi Wayne non causerà alcun problema Dico bene Mr Wayne Le manette possono restare Non facilitiamo troppo le cose Viva Che bastardi Bella la spina Bruce Wayne Grandioso Era un inviato per quella tua pessima conferenza stampa Ed eccoci qua tutte e due Immagino che ora avrai imparato a tenerti fuori dalla politica Vero? Ascoltami attentamente Quando aprono la porta Resta calmo E stammi vicino Quante fighe Non accetto consigli da uno che non ha mai dovuto lottare in vita sua Ah no? Calma Cercano solo di spaventarci Ognuno per sé è a micro Scusa Resta calmi Rerai 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 Contra-attacco Nice Crepa Non proprio non vuoi crepare, ragazzi In piedi, Ryder Ho detto in piedi Edo Ma sì, sei figo con una mazza Aia Perché non posso contrattaccare O Gesù Il pinguino è uno dei pinguin E tanti cattivi di Batman, sappiatelo È un nano Di base È grazie Diciamo che sarà una vendetta vecchio stile Prendiamolo I numeri Colpitelo Credo che mi avvii rotto la mano Credi, eh? Io sono sicuro di averti rotto la mano Aiuto Potemi uscire Minchia, colpisci il nano Colpisci il nano Non posso colpire il nano Io sono Bruce Wayne, zio Quando avrò finito con voi Vi spezzerò personalmente le ossa dietrame le mani Oh, sì Boom Yeah Così si fa ragazzi Dove sei pinguino? Non posso contattare Alfred Da qua sotto Devo andare più in alto Ah, sì Tutta la vita Ok, di qua quindi Non è Bruce Wayne in realtà Lui è tipo Spider-Man Mr. Batman Mr. Bat-quit Ho visto tanta male Alfred, hai la mia posizione? Solo ora, sir C'è più interferenza del solito Mi serve uno sgancio immediato sul tetto della Ace Chemicals Mi sto dirigendo sul posto Certamente Quindi questa è Arkham City Che posticino carino Che posticino carino È la Ace Chemicals Sarò in grado di salire da lì Veramente si muove tipo Ah Veramente Non stavo guardando Così ci abbassiamo Classico Ok E cose possiamo appenderci al polpotto Non è una coppia Sì 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 Io voglio guidare il budget almeno in uno dei videogiochi di Batman Non me lo fanno fare È tipo una cosa che ho fin da bambino Tanta roba Sono Bat-quit Tanta tanta roba Tanta 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 roba Parecchia tanta roba Parecchia tanta roba Alfredo Ho preso una chiave crittografica da una guardia Mi inserirò nelle loro comunicazioni Questo me lo ricordo Cipi dati crittati accesso alla chiave di trasmissione Sincronizza Ok A tutte le unità Qui Tiger Area 4 Abbiamo conferma che il detenuto 4-0-1-1 è nel tribunale Ripeto Catwoman è nel tribunale È in pericolo Affermativo L'obiettivo è ostaggio di Dan Riteniamo che voglio ucciderla Come dobbiamo procedere? Ritiriamoci Lasciamo divertire due facce Bastardo Stardo Non promette nulla di buono Già No davvero La predilezione di Dan Per la dualità Non fa besperare Per la signorina Kai Se qualcuno sa cosa succede davvero ad Arkham City È lei Devo trovare subito Catwoman Beh non ci impiegheremo molto Stai E questo? No! Vabbè Non era quello che volevo fare Perché è bloccato? No Ok Ce ne stiamo qui al freddo Mentre tutte le cose interessanti succedono L'ha detto Perché l'ha detto due faccia Ciao! Yeah! Non si fa! Oh sì Qui c'è un combattimento in corso! Beh che dov'è che non c'è un combattimento in corso in questo posto? Scusami eh Yeah! Tu non ammazzi nessuno Alla fine non ti riconoscerà nemmeno tua madre Uuuuuh Quella è nuova Quella è totalmente nuova Ok 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 Boom 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 Classica Mossa di sottomissione Via di le palle Via di le palle Yeah! Bene Non ho perso il mio tocco devo dire Mh Andiamo a salvare Catwoman va Apriamo il pot Bene Siamo dentro quindi Facciamo un'entrata d'effetto e entriamo dalla porta Entriamo dalla porta E' chiusa Facciamo un'entrata d'effetto Lento Idiota La corte è in centro Niko si può salire? Si Uh L'unico modo per cavarcela in questo posto è farci rispettare C'è anche due piano Così si ottiene rispetto Facciamo vedere a tutti come lavoriamo Ma dobbiamo essere equi Questo è un luogo di giustizia dopo tutto Nessuna giustizia Ucciderà E tutti ci temeranno Portate l'imputato Sai certamente come tenere le donne sul filo, Harvey Ehi Hai fatto qualche ritocchino qui? Questo è per averci derubati Nessuno osa rubare a noi Oh Scusa sono una gattina cattiva Se mi sleghi mi farò perdonare Come? Vediamo se la moneta pensa che tu dica il vero Questa corte è in seduta Silenzio in aula Silenzio! Silenzia! Una scala La chiave di tutto è il criminale armato Senza di lui il resto della stanza non sarà più di più Benvenuti abitanti di Alcanzini È bello vedere tante facce nuove nella folla Facce nuove per la banda Ok Questa cammina sul tavolo come? Due opportunità Per unirvi a noi Creare una nuova forza ad Arkham E per prenderci questo posto Quando il clown muore La città sarà nostra Yeah! È arrivato il nostro amico Batman Prendetelo e secatelo in due Perchè sono scappati tutti? Ti condanno a morte Batman Ah si? Fermo Batman Yeah! Ho appena schivato un sacco di colpi di pistola senza sapere Ho un caputato di cane Oh no! Geniale Aia Respinta Mi ha preso Testa o croce gattina Con quale delle due esco viva Non conquista È ora di morire È ora di morire Chiedo un rinvio dell'esecuzione vostro onore Nessuna pistola? Peccato Questo farà molto male Due pistole stronza Credevo fossero i gatti ad avere nove vite Un altro tuffo nell'acido, due facce Allora come va, Harvey? Vieni qui da me Che cattiveria Non ti ha mai detto nessuno che sei pieno di sorprese Pensavo che ti servisse aiuto, Selina Hai ragione, ho paura di essermi spezzata un'unghia Certo Cosa ti serve, signor detective? Protocollo 10 Che ne sai, Selina? Mai sentito Non è questo che volevo sentire Dimmi di Strange Inaffidabile Prima sparisce per anni E poi all'improvviso lo mettono a capo di Arkham City Dicono che stia lavorando con Joker Per preparare qualcosa di speciale Solo per te Sarà questo il protocollo 10? Può essere Vola vola pipistrello Che io ammazzo Il tuo gatto più bello Noo, ciao Joker Come stai? Con la faccina smiley Diavolo Alla prossima Batman Come stai